Anna Tatangelo è una cantante e conduttrice televisiva italiana. Dopo essersi aggiudicata a alcuni concorsi musicali, tra cui l'Accademia della Canzone di Sanremo, è diventata nota grazie alla vittoria del Festival di Sanremo 2002 nella sezione Giovani, con il brano Doppiamente Fragili. Anna Tatangelo ha parlato ai suoi follower di quanto per lei sia stata importante la psicoterapia. La cantante, infatti, ha dichiarato di essere riuscita a superare molti momenti difficili anche grazie al supporto psicologico che le è stato dato. Oltre a varie separazioni, la cantante ha anche attraversato periodi bui dovuti a lutti importanti come la morte della mamma prima e del nonno poi. L'ex compagna di Gigi D'Alessio si è confidata a riguardo su Instagram. Anna Tatangelo mette spesso a disposizione dei suoi follower il box delle domande e uno degli ultimi quesiti che le sono stati rivolti è stato questo. Quanto è importante per te la psicoterapia? Per me oggi è stata la seconda seduta. Anna allora ha risposto, per me è stata fondamentale. Se non avessi iniziato anni fa avrei fatto più fatica a ritrovare me stessa. È un percorso che ognuno di noi dovrebbe fare.